Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove in direzione mare si segnala un chilometro di coda per il ripristino di un incidente, adesso risolto al chilometro 35, tra Empoli, Ovest e San Mignato. Sempre tra Empoli, Ovest e San Mignato in direzione mare, rallentamenti per un altro incidente avvenuto al chilometro 31,600. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Sul raccordo Siena-Firenze è chiusa per lavori sulla viabilità ordinaria l'uscita di Poggi Bonsi Sud provenendo da Siena. Si ricorda che oggi, venerdì 8 novembre, è nato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale che non coinvolge i treni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!